Presento due cuccioli di bulldog francese, un bellissimo maschio blu con gli occhi azzurri e una femmina nera. Sono cuccioli di tre mesi e mezzo, quattro, microcippati, sverminati, in ottima salute e pronti per il ritiro. Per chi li volesse si trovano alla Casa del Cucciolo in via Torquato Taramelli 2 a Bergamo, telefono 324 99 13 656.